Buonasera cari pixelini e benvenuti in questa nuova fantastica avventura dove andremo a stacchettare il calendario di Lego Harry Potter dell'avvento mamma mammao Lego dai regalami qualcosa direi che vi devo anche dire un'altra cosa c'è un giveaway dove potete vincere questo intero calendario è il numero 1 dovete andare a commentare il video numero 1 le istruzioni le trovate qua sotto in descrizione e ovviamente anche nel video ci sarà spiegato tutto come fare commentate anche questo video fatemi sapere se parteciperete o meno ragazzi ieri era il 17 dicembre oggi è il 18 dicembre mi ricordo anche dove la casellina con la magina andiamo a usare il nostro caro carissimo allora avrà funzionato ha funzionato non capisco è un personaggio non capisco esattamente che sia me lo direte voi secondo me lupi non lo so ho un dubbio ragazzi ho un dubbio direte voi alla fine del video fatemi sapere qua sotto nei commenti che personaggio sarà usiamo la magia per andare ad aprire abbiamo usato ho usato la magia perfettamente credo sia lupi non lo so non mi torna non mi torna esattamente per come è vestito eccetera ma non lo so andiamo a costruirlo e poi me lo direte voi c'è anche il cravattino qui carino carino coloso andiamo a mettere qua ma no aspettate un po è perché ragazzi allora c'è a due faccine mettiamo quella sorpresa dai mettiamo quella sorpresa se solo riuscissi a incastrarla ovviamente lo casta contrario eccoci qua ai capellini a me sembra lupi però non lo so abbiamo un sacco di cose di ricambio perché tutte queste cose di carne sono uguali si sono uguali ma 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 allora andiamo a mettere la nostra bacchettina ci abbiamo fatta subito stavolta o eccoci qua venite con me questo personaggio chi è non riesco a capirlo non non mi viene in mente non lo so ragazzi non so chi sia eccolo qua il nostro caro amico personaggino molto carino abbiamo due cravattine di ricambio la bacchettina e tanta tanta robina molto carino molto carino e grazioso ma ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti chi è secondo voi questo personaggio ci vediamo domani con il prossimo video oggi alla 18 andiamo a cercare il numero 19 vediamo un po se lo trovate prima voi di me eccolo qua il 19 mamma mamma mao vi ricordo il giveaway andate a commentare il video numero 1 per andare a poter vincere questo intero calendario più una sorpresina fatta da me perché magari io vorrei se fosse possibile ma sarà il vincitore a deciderlo che una di queste caselline me la tengo io per ricordo probabilmente il numero 2 che è molto carina ma sarà lui a decidere ovviamente io lascerò qualcosa in cambio nel senso non è che lascio una casella vuota ci sarà un regalo da parte mia ma ragazzi per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata dove andrò a spacchettare il numero dicendo vabbè me lo sono già perso a colori il 19 per oggi è tutto che altro dire fatto il mi sgatto ma mao se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di harry potter ti aspetta grazie